Guardate un po' cosa abbiamo qui, lo riconoscete? Beh, sì, dai, è il peperoncino. E oggi parliamo di 8 vantaggi per la salute. Però attenzione, perché non è proprio per tutti. Prima di andare avanti, ricorda di lasciare un bel mi piace, condividere il video con i tuoi amici e iscriverti al canale attivando la campanellina. E soprattutto fammi sapere se il peperoncino piace anche a te. Primo vantaggio, accelerazione del metabolismo. La capsaicina, che è il composto responsabile del piccante e del peperoncino, può aiutare temporaneamente a stimolare il metabolismo e a bruciare più calorie. Due, sollievo del dolore. La capsaicina ha anche proprietà analgesiche e può essere utilizzato in unguenti e creme. Tre, controllo dell'appetito, molto interessante, perché può aiutare a ridurre l'appetito e quindi a introdurre meno calorie. Quattro, miglioramento della circolazione. Può favorire una migliore circolazione sanguigna, aiutando a mantenere il cuore sano e anche i capillari. Cinque, benefici antiossidanti. Il peperoncino è ricco di antiossidanti, quindi contro i radicali liberi, contro l'invecchiamento. Sei, proprietà antibatteriche. Alcuni studi suggeriscono che la capsaicina può avere la proprietà antibatterica di combattere alcune infezioni. Sette, migliora la digestione. Può stimolare la produzione di succhi gastrici, migliorando la digestione. Otto, sensazioni di calore. Il peperoncino può aumentare la sensazione del calore corporeo e quindi è ideale in questi momenti di freddo. Ma attenzione, perché il peperoncino non è adatto a tutti. Alcune persone possono avere una sensibilità o allergia al peperoncino e le persone con ulcere gastriche o problemi gastrointestinali come il reflusso potrebbero e dovrebbero evitarlo. Questo può peggiorare proprio i sintomi. Comunque vale sempre la regola di ascoltare il proprio corpo. E attenzione anche a chi soffre di amorroidi, perché poi può bruciare molto, molto, molto mangiare il peperoncino. Non dobbiamo esagerare. Comunque metti un bel mi piace, condividi il video con i tuoi amici e iscriviti al canale attivando la campanellina. Ciao!